Altri 300 nuovi contagi in provincia di Agrigento su circa 1000 tamponi processati è quanto emerge dall'ultimo bollettino diramato dall'azienda sanitaria provinciale aggiornato al primo maggio. Sono adesso 9.110 soggetti attualmente positivi nell'Agrigentino, 43 dei quali ricoverati. Seppure il virus continue a circolare fortunatamente la situazione negli ospedali rimane sotto controllo. Al San Giovanni di Dio di Agrigento sono 24 i posti letto occupati in degenza ordinaria, 14 al Fratelli Parlapiano di Ribera, un solo contagiato ricoverato in ospedale di altra provincia. Per ciò che concerne la terapia intensiva sono 4 i ricoverati e tutti al Covid Hospital di Ribera. Altro dato incoraggiante è che da diversi giorni non si registrano decessi. Per ciò che concerne la situazione nei comuni a Sciacca gli attuali positivi aumentano e sono adesso 955. A Ribera i contagiati sono 270, a Sambuca di Sicilia 145, a Santa Margherita Belice 106, a Menfi 280. Oltre i mille contagi solo il comune di Agrigento dove sono 1208 per l'esattezza degli attuali positivi. Segue Sciacca che come dicevamo sfiora mille casi e poi Favara con 939 contagiati, Licata con 808 e Canicattì con 699.